Buongiorno amici lontani e vicini, alle olie torna il sole e siamo al castello di Lipari con la dottoressa Amalia Mastelloni che si sta organizzando per far fronte alla grande estate 2018 perché il museo rappresenta un polo di cultura ormai a livello internazionale per cui ci sono belle novità per questa nuova stagione. Quest'anno io spero innanzitutto che prima dell'inizio dell'estate, prima di giugno ci sia una grossa manifestazione culturale qui perché quest'anno abbiamo fatto veramente tantissimi interventi e abbiamo rifatto grazie al lavoro di tutto il personale che si è prestato in maniera eccezionale, tutta l'illuminazione di tutto l'istituto, il controllo e la riesposizione o per meglio dire una migliore esposizione che ha curato a dottoressa Martinelli un po' di tutti i materiali abbiamo avuto dei fondi, piccoli fondi ma abbiamo fatto un bellissimo restauro di svariati materiali che adesso hanno sicuramente un'altra visibilità. Quindi un museo ancora più ricco. Sì, certamente e anche e soprattutto quello che è importante è che anche per la conservazione di questi materiali e quindi noi riusciremo penso a offrire ancora ai visitatori una nuova possibilità di lettura di materiali stessi. Tra l'altro ci sono stati anche interventi che riguardano gli ascensori, almeno quelli esterni e interni in attesa di quello della via Garibaldi. Dunque quello della via Garibaldi è un progetto europeo che è stato dichiarato praticamente e già a livello definitivo ed esecutivo e quindi adesso appena avremo attraverso il finanziamento del PON potremmo portarlo a compimento. Ma quanto occorre per ripristinarlo? 40.000 euro è possibile questa cifra o erisoria? No. Dunque no, adesso io non entro nel merito ma insomma si parla di centinaia e migliaia di euro mentre invece noi abbiamo avuto una cifra di quelle dimensioni per la rimessa in funzione dei cinque ascensori presenti nelle nostre strutture, cioè nei vari padiglioni che abbiamo rimesso non tanto per il visitatore corrente piuttosto che noi stessi ma per avere rispetto di chi ha dei problemi di deambulazione che era privato del piacere di salire ai piani superiori oppure era sottoposto anche a delle scene poco edificanti, insomma di trasporti più o meno fantasiosi. Oggi fra l'altro è presente anche una scuola resca per i lavori portati avanti nella struttura, no? Sì, dunque oggi ha chiuso per il terzo anno consecutivo l'impegno dell'alternanza scuola lavoro il liceo Gaggini di Siracusa che appunto per tre anni è venuto qui, ha realizzato un insieme di opere che adesso verranno poi cotte nel nostro forno perché noi abbiamo la fortuna di avere, grazie per un vecchio acquisto di Gullo un forno con cui possiamo cuocere i prodotti realizzati con l'argilla dai ragazzi. E tutte queste opere tra non molto potrebbero andare anche in mostra, no? Sì, perché loro vogliono riassumere tutto il percorso che è un percorso anche di studio, è un percorso di realizzazione e vogliono riassumerlo in una mostra che si terrà prima a Siracusa e poi qui a Lipari. Ecco, a proposito di padiglioni, qui c'è la novità del recupero dello stemma giusto? Che era stato un po' danneggiato? Sì, però siamo riusciti anche qui ad avere un restauro importante che ci ha messo in sicurezza per quanto riguarda appunto la presenza di questo importante manufatto che è un manufatto settecentesco e che è stato realizzato da degli specialisti dei restauratori specialisti venuti appositamente da Roma che sono gli stessi che poi hanno realizzato anche l'intervento di restauro degli altri materiali si è fatto un ponteggio e così si è potuto anche constatare che il manufatto ha delle lesioni ma è stato messo in sé praticamente siamo stati molto fortunati perché è stato preso in tempo? È stato preso in tempo, questo lo dobbiamo dall'ingegnere Vadara che insomma si è imposto sotto questo profilo ma soprattutto quello che è molto importante è che adesso siamo tranquilli non solo per il visitatore che entra ma anche per il personale stesso che spesso sosta qua sotto I visitatori del 2017 quanti sono stati? Ma guardi, noi abbiamo questo problema che evidentemente i visitatori non sono invogliati a venire al museo non sono accompagnati, non sono adeguatamente informati per cui i visitatori in fondo sono stati molto relativamente pochi nel senso siamo sui 30, oltre 30.000 visitatori Nonostante la grandissima affluenza che c'è all'interno del castello, vero? Sì, però quest'anno è stata molto 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 inferiore agli anni scorsi io ho l'impressione che il fatto che adesso vengano offerte delle escursioni sull'isola stessa che portano i gruppi direttamente in giro a fare il giro turistico dell'isola non porta più la gente sull'acropoli Praticamente l'acropoli è tagliata fuori da questa invasione di turisti mordi e fugi Che da un lato può anche essere se deve essere solo il venire qui per appoggiarsi sui sarcofagi per fare la scampagnata è chiaro che non funziona però è anche vero che se invece questo significa dare di Lipari una visione diversa e allora secondo me Dovrebbe essere fatta probabilmente una campagna con questi vaporetti cioè raggiungere un'intesa anche a livello per esempio economico con delle tariffe particolari per i gruppi ancora di più di quanto già ci sono perché voi le avete le tariffe speciali No, noi non abbiamo tariffe speciali per i gruppi perché i gruppi noi abbiamo un biglietto di un minimo perché lei capisce bene noi offriamo cinque edifici con sei euro cioè significa praticamente ma neanche un caffè ora io non capisco insomma per carità capisco che tutti noi vogliamo anche spendere poco però che un visitatore rinunci a vedere il museo per non spendere sei euro dopo che ha speso tutto quello che ha speso per arrivare a Lipari mi sembra irreale mi sembra... Si accontentano del museo a cielo aperto Si, a volte credo che ci sia anche un equivoco cioè forse qualcuno pensa che l'acropoli sia a pagamento invece in realtà l'acropoli tra l'altro questa è una strada comunale quindi chiaramente pubblica quindi non lo so quale sia il meccanismo Ma la strategia poteva essere quella del ticket d'ingresso al castello a che punto è questa pratica? perché l'avete avviata, no? L'ostacolo qual è? È stata autorizzata tutta la pratica da parte mia non c'è nessun ostacolo l'unica cosa che credo sia stata lo stativo è stato che naturalmente occorre del personale che gestisca questa situazione cioè io non posso io ho pochissimo personale Mi perdoni, avete già raggiunto quindi un'intesa col comune perché sono diversi gli enti interessati, no? per poter dare il via a questo ticket d'ingresso nel castello Allora, noi io ho avuto l'autorizzazione alla firma di questa convenzione eravamo arrivati alla convenzione, alla firma dopodiché il problema è stato quello che non c'è personale che possa assumere questo incarico perché certo io non posso come museo distaccare personale al di fuori ma non peraltro non solo e non tanto per il problema che il personale mio non può lavorare in un'area diversa da quella che sono i musei ma anche proprio per un fatto di numeri cioè io ho un numero talmente ridotto ormai di persone Ancora ne andranno in pensione, no? Alcuni pilastri della struttura fra poco Certo, certo e che ancora si ridurrà quindi io non mi posso poi far carico perché sa, gestire in una giornata non so sette, ottocento persone significa avere tutta una organizzazione perché poi a quel punto ci sono anche delle responsabilità e ora questa cosa si è bloccata a questo punto Mi perdoni, gli enti interessati quali sono? Quindi c'è il museo poi c'è il comune e c'è? E la curia E la curia Ma avete già stabilito per esempio la quota d'ingresso? O ancora i dettagli non ci siamo? Dunque le spiego Quando io sono arrivata io ho subito affrontato questo argomento io sarei stata pronta dopo sei mesi ad andare in sistema Il problema è stato che gli altri istituti si sono scoperti sprovvisti di personale in grado di gestire un problema del genere sotto tutti i profili economico, pulizie e quant'altro Si potrebbe costituire una cooperativa di giovani quindi garantire anche dei posti di lavoro e far fronte con gli introiti che fuori di dubbio potrebbero esserci visto l'affluenza con un ticket irrisorio certamente per facilitare l'ingresso Questo sicuramente però non posso farlo io come struttura museo regionale io posso condividere alcuni aspetti già ripeto la firma della convenzione era già stata autorizzata quindi io potrei firmarla anche domani però ci vuole a monte tutta un'organizzazione che garantisca anche perché vede il visitatore una volta che sale e vede e sa di essere in un'area diciamo gestita ha delle aspettative da un lato e ha anche delle diciamo si rilassa quindi si può essere anche esposto a dei rischi a delle cose capisce se non è tutelato dal personale si dovranno anche garantire dei servizi non c'è dubbio ma è un insieme di problemi e naturalmente purtroppo tra l'altro c'è da dire un'altra cosa che qui è tutto ammassato in pochi giorni e in pochi mesi mi sono spiegato quindi il problema non è adesso io non avrei nessun problema a gestire la cosa però certo quando io ho appunto 700-800 persone tutte in una volta non è possibile gestirli alla Carlona insomma o in maniera estemporanea l'ultima cosa lei parlava di personale che ormai non è più adeguato ma qual è la situazione rispetto alla pianta organica siete al 50% o ancora meno? ma dunque rispetto alla pianta organica lei mi prende un po' di sorpresa perché di queste piante organiche ormai non esistono più le piante organiche nel senso che le piante organiche risalgono alla legge alla 116 dell'80 era un allegato della 116 dell'80 che prevedeva tutto un insieme di altre figure che andavano che ne so dal restauratore al disegnatore al cioè un insieme di figure che oggi non sono state mai neanche pensate come realizzazione funzionari anche altri perché lei tenga presente che qui in questo momento per esempio c'è un solo archeologo erano previsti credo almeno 4 dirigenti qui abbiamo un solo dirigente peraltro anche lui sta per andare in pensione e qui ne erano previsti 2 più 1 quindi 3 quindi custodi per esempio? i custodi ormai siamo ridotti a lumicino siamo ridotti a 15 persone quindi tra l'altro con vari incarichi e di vari livelli quindi non è neanche omogeneo il gruppo ora tutti si prestano perché le ripeto noi abbiamo fatto quest'anno un lavoro pazzesco smontare tutte le vetrine rifare tutti i soffitti rifare tutta l'illuminazione rimontare tutte le vetrine è stata una cosa che in altri posti le garantisco vuol dire la chiusura del museo per almeno due anni e invece si è fatto tutto in pochi mesi però però adesso che cominciamo la stagione diciamo estiva e che dobbiamo fare veramente i salti mortali a me mi aiuta molto l'associazione dei carabinieri naturalmente va ringraziata no non solo va ringraziata ma abbiamo anche potenziato diciamo la sua presenza quest'anno perché il primo anno è stato un esperimento il secondo anno adesso quest'anno avremo ancora di più presenza però non è che io ripeto posso caricare né il controllo della chiusura dell'acropoli sul personale della regione perché non fa parte dei suoi compiti cioè proprio istituzionali e ne posso presumere con questo poco personale di fare chissà quali manifestazioni o chissà quali aperture perché veramente devo ogni volta calcolare anche le forze proprio fisiche umane non c'è niente da fare poi alla fine si paga anche perché se poi si pretende troppo poi si ottiene peggio insomma si peggiora la situazione bene abbiamo completato ringraziamo la dottoressa Amalia Mastelloni dirigente del museo archeologico delle olie grazie al nostro webmaster Massimo Pagliaro grazie anche a voi e buona Pasqua a tutti vero dottoressa tantissimi auguri veramente di cuore a tutti arrivederci grazie a tutti